Si avvia la conclusione del Bobbio Film Festival. L'ultimo ospite è Fahim Bouyan, giovanissimo regista e interprete di Bangla, una piacevole commedia sui ragazzi di origine straniera nati in Italia e su un quotidiano che viene spesso percepito erroneamente come straordinario. L'idea nasce ovviamente da quel racconto che abbiamo cercato insieme a Vanessa Picciarelli, che è la con-sceneggiatrice, è di raccontarlo con una storia d'amore e di renderlo sempre più leggero perché comunque sai tematiche come l'integrazione o l'immigrazione sono tematiche che vengono raccontate attraverso film più drammatici, più pesanti e a noi ci interessa più utilizzare una chiave ironica per raccontare tutto ciò ed è ovviamente molto biografico perché viene molto dalla mia esperienza ma anche dai miei amici giustretti. L'elemento nuovo e spiazzante per lo spettatore è che l'ostacolo alla storia d'amore è la religione. È stato quello, il perno, infatti la difficoltà principale era riuscire ad arrivare tutti però in modo tale da non essere mediocri, nel senso che comunque il pubblico principale che volevo prendere ovviamente era il pubblico che non conosceva effettivamente queste realtà e spiegare appunto che un ragazzo di seconda generazione, di fede islamica, che comunque è osservante, subisce in qualche maniera questo conflitto interno che non sa come risolverlo e speriamo che con il film più che mandare un messaggio era più insomma porre delle domande sia al pubblico ma anche ovviamente alla comunità del Bangladesh o comunque quella islamica.